Terza edizione della stagione concertistica all'era della Magna Egregia. Un bel concerto quello di oggi. Veramente molto bello, molto bello perché malgrado la giovane età degli artisti sono veramente delle giovani virtuose che stanno presentando un programma veramente eccellente proprio, perché hanno scelto di cimentarsi fra quello che è la maturità di alcuni artisti e soprattutto il virtuosismo di altri. Cioè quindi il violino in questo caso che ve la fa da patrone e il pianoforte che non si presenta da meno del violino stesso. Quindi un duo e un duello fra i due veramente interessante e estremamente bello. Sì, anche perché questo genere di musica è un genere di musica che tocca il cuore. Beh, arriva veramente dentro perché chi la sa ascoltare è veramente come le grandi pitture. Ecco Beethoven, Divorciac, Debussy, Ravel, Saint-Saën, Bach, rappresentano proprio il massimo dell'espressività, il massimo del... vanno a toccare con le corde di tutti gli esseri umani proprio, ma le corde che a volte ci dimentichiamo anche di avere. Come si chiamano le due musiciste? La violinista è una de meo, sono anzi, devo dire che sono due sorelle, una violinista e una violoncellista, che l'avremo fra 15 giorni, fra le altre cose l'avremo, e l'altra è una Canet. A Canet, adesso non ricordo il cognome, ma giovane virtuose che hanno vinto una marea di concorsi di carattere internazionale. Quindi sono, diciamo, molto preparate professionalmente, regalano questi momenti di musica ad un pubblico che sente il bisogno di tuffarsi nella musica classica? Ebbè, io credo che riscoprire certi valori fa sempre bene a tutti e loro ci portano a relazionarci con noi stessi, a rivedere, a risentire, a ritemprarci, ecco io dico, di questi momenti molto belli. Il prossimo concerto quando ci sarà? Il prossimo concerto l'abbiamo esattamente fra 15 giorni, cioè il giorno 15 febbraio ci sarà la violoncellista, sempre una de meo, perché è la sorella, come dicevo, della violinista, insieme a Carbonara, ecco, un valente pianista che anche lui da solo già significa, è tutta una storia, perché anche loro, quest'anno la scelta è proprio basata sui virtuosi che hanno vinto grandi concerti, grandi concorsi. E quindi ci sarà questo momento veramente molto bello sempre qui nell'auditorio e sarà un altro momento bello.